Ieri si è tenuto un incontro tra i capigruppo del Consiglio regionale e i rappresentanti sindacali dei lavoratori IGEA della miniera di Olmedo. I sindacalisti, dopo l'approvazione del piano industriale di IGEA nel mese di luglio, hanno chiesto garanzia alle istituzioni regionali circa il futuro dei 20 lavoratori, sia in vista della prossima scadenza dei contratti fissata per il 30 novembre, sia per quanto riguarda la stabilizzazione dei posti di lavoro. Il Consiglio interverrà a sostegno dei lavoratori di Olmedo sul presente, ma con lo sguardo rivolto ad una prospettiva concreta e stabile, ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale, Michele Paes. Anche l'assessore dell'industria, Anita Pili, ha assicurato la piena disponibilità dell'esecutivo a predisporre una delibera nella quale inserire un piano di ricollocazione dei lavoratori che prevede il loro impiego in attività di manutenzione e ripristino ambientale del sito, in una prima fase e successivamente nella realizzazione di altri progetti diversificati.